Ed eccoci al sentiero di Gandria a Lugano, è uno dei posti più belli, più romantici dove venire a camminare. Sono qui perché la sfida di Ondina di questa sera è particolarmente sfidante. Ondina infatti, la sottoscritta, deve entrare nel ristorante più romantico sul sentiero di Gandria, proprio quello che dà sul lago con il terrazzo dove arrivano le coppiette, così a chiedere un refill della borraccia. Buonasera. Buonasera signora. Buonasera signora cara. È bellissimo sto ristorante. Grazie mille, grazie. Ma sembra una cosa, io avrei bisogno di fare un refill della borraccia. Ma certo, mi dia. Che gli posso mettere dopo? Acqua minerale? No, 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 preferisco l'acqua di rubinetto, grazie. Posso mettere un po' di ghiaccio perché è un po' fredda? No, 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 va benissimo. Se scorre un attimino dov'entrerà fresca giusta. Grazie signora. Grazie mille. Ma ci mancherebbe, grazie a lei. Uno mi ha chiesto perché è strano, no? Sul sentiero di Gandria. Ma fa caldo signora, c'è un incomprensibile che ha bisogno di acqua fresca. Gliela diamo l'ondina d'oro, non gliela diamo. Grazie mille. Grazie. Grazie. E annuncio ufficialmente che questo ristorante ha appena vinto l'ondina d'oro. Grazie. E fatti abbracciare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.